Campionato italiano cronometro multicategorie, under 23 e allievi maschile e femminile. Presentato a Città di Castello il campionato italiano nella sala consigliare alla presenza del sindaco Luciano Bacchetta, che è anche presidente della provincia di Perugia, con Cristian Goracci, che è il presidente della Sogepu, la società che dà il nome a questo quarto trofeo valido per l'assegnazione di tre maglie tricolore, la maglia di under 23 a cronometro e le due maglie d'allievi per la categoria maschile e per la categoria femminile. Presente anche la vicepresidente della Federciclismo Isetti, insieme con il presidente regionale del CONI, Ignozza. È la maglia tricolore sfoggiata dagli amici che hanno fatto la presentazione della giornata del primo di agosto a Città di Castello e noi andiamo a raccontarvi quello che sarà nel vivo il campionato italiano cronometro. Siamo stati fermi cinque mesi, però riprendiamo la grande, 650 partenti per una cronometro. Questa è voglia smisurata di voler correre, è pazzia. Si parte alle otto e si finisce alle otto, quindi voglio dire portatevi anche le lampadine perché è una giornata che non finisce mai, no Enzo Mantieni? Sì, beh, è vero, siamo passi ma abbiamo tanta voglia di ripartire. Grazie a tutti perché devo dire che è un'organizzazione ben oleata, visto anche l'organizzazione dei campionati italiani dell'anno scorso, però quest'anno c'è una situazione ancora più difficile che il Covid-19. Comunque siamo attreziati, grazie a tutti, grazie al team Forte Braccio, all'Unione Ciclistica Città di Castello, all'organizzazione. Sì, siamo 650 iscritti, è una cosa fuori dal normale, solo la nostra grande volontà e voglia e l'amore verso questo sport bellissimo che ci porta a fare una giornata di festa e di grande impegno a Città di Castello e non solo perché noi tocchiamo anche il Comune di Citerna e il Comune di San Giustino. Comunque la location delle partenze è tutto al centro congressi Sogepu a Cerbara e lì sarà riservata a tutti i team, all'organizzazione, scorte tecniche, protezione civile, vigili, carabinieri, polizia, tutti quelli che lavorano per questo evento e purtroppo con le disposizioni del Covid-19 il pubblico deve stare lungo la strada. Ecco, ricordiamolo, nella zona della partenza e dell'arrivo non c'è possibilità di ospitare il pubblico, entrano solo gli accompagnatori, così come accade nei ciclodromi e nei velodromi che sono stati già protagonisti di gare. Il pubblico, se vuole, sta lungo la strada. Sì, il pubblico sta lungo la strada, come dicevi tu, assolutamente via Elio Vittorini da venerdì 31 luglio fino al primo agosto alle ore a notte perché veramente rischiamo di correre con gli esordienti a notte però è tutto illuminato, tutto predisposto perciò ecco qua, il pubblico deve stare lungo il percorso e non può venire in via Elio Vittorini. Saranno predisposti la zona bianca riservata ai accompagnatori che non hanno diritto di andare nella zona gialla riservata ai team, all'organizzazione, ai giudici, direzione e corsa, scorte tecniche, tutti coloro, speaker, televisioni, tutti coloro che sono nell'organizzazione. Voglio concludere con un ringraziamento particolare soprattutto al comune di Città di Castello, al presidente della provincia Luciano Bacchetta e nonché sindaco di Città di Castello, Massimo Massetti all'assessore allo sport, Cristian Goracci, presidente della Sogepu e al comandante dei vigili e a tutti i componenti che veramente si sono adeguati alle mie richieste che sono state molto inerenti a questo evento che veramente impegna tante persone. Perciò grazie di cuore a tutte queste persone e anche ai comuni di San Giustino e Citerna per la grande collaborazione. Grazie.